buongiorno a tutti allora stasera ho detto al pizzaiolo di farmi una mari e monti esagerando e quindi c'è i mari, i monti, le montagne, i laghi, la pianura c'è di tutto perché praticamente mi ha messo tutto quello che poteva mettere oltre a una montagna di patate perché giustamente fanno te se è il Gigi quindi ci vuole la montagna di patate guardiamo a caccia qua quello che ha messo poi ci sono i booster e i gamberetti aiuto ecco lì fugghi anche poi c'è qualche gran seola qualche gamberetto di qua e di là solo che eccola lì ecco quello che stavo cercando questo questo è un classico è che ci vuole sempre nella quindi adesso me la gusto anche perché anche stasera c'erano le due idee che va bene lasciamo perdere poi ero anche abbastanza incazzato perché mi perdono le consegne ho dovuto fare i salti mortali che oggi dobbiamo fare una consegna importante e ho dovuto fare i salti mortali meno male va direttamente la persona a prendersene domani mattina poi domani mattina mi sa che mi arriverà il solito messaggio tu sei un pazzo non fa niente buon appetito ciao